Ho un tiltr dinamico, sento un po' più basso, sento meno i miei passi, però sento le direzioni e sono un po' più basso, sento un po' più basso, sento un po' più basso, sento un po' più basso. Battle Royale, avete gas in avvicinamento, andate nella zona sicura. Questo è un buon punto! Bel posto, quella è la nostra zona di lancio. Serve a qualcuno? Proviamo. Temici in zona! Mi dirigo qui. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. Fuoco autorizzato su. Quattro 1. Fuoco. 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 c'è una corazza c'è una corazza poi dice una scheda russa mi sposto qui da questa parte c'è una corazza temici in zona compagno inviato nel gulag combatterà per poter tornare in azione ora il compagno è nel gulag se sopravvive tornerà in azione oh c'è uno davanti controllo qui intorno c'è uno sopra di me va bene c'è uno sopra di me cazzo in avvicinamento sento un cazzo questo tiro dinamico nemici in zona nemici in zona è calcatissimo compagno inviato nel gulag combatterà per poter tornare in azione il compagno ritorna in azione attenti il compagno ritorna in azione attenti sono morto sono morto ma ragazza che imbordere di scogli il compagno è nel lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo compagno in rientro nell'area operativa nemico poso il lancio fermita l'alzata salio taglia in campo abbattetelo ho già finito i volti dopo la vaga mi sposto qui una terra la terra la terra il taglio taglia eliminato ben fatto guap nemico in volo guap nemico in volo guarda lo scioppo qui non lo scioppo qui no sta io passato in munizione raga guap nemico in volo guarda lo scioppo prendiamo anche il fantasma Ricevuto, ci penso io. Anzi, ci vediamo molto più. Darvi a qualcuno? Io sono fuorzio di piastre. Cazzo, cazzo, cazzo. Correte, correte, correte. Darvi a qualcuno? No, però facciamo niente. Io voglio il G2. Sarvi a qualcuno un momento, come non detto. Lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo. UAB alleato in zona, sorbolo avviato. Gas in movimento. Nuova zona sicura individuata. Oh, cosa è venuto in questa casa? Controllo qui intorno. E' solo. E' solo. E' solo. Comunque sta sciocchinando a testa. Comunque sta sciocchinando a testa. Impressioni disponibili. Ho marcato dell'equipaggiamento. E' solo. Approvvigionamento avvistato. Ragazzi, ce lo va via. Quando lo volete. Helicotteri di rifornimento in arrivo. Hanno carico prezioso. Ho marcato dei bigliettoni. Dove no? E' solo un po' 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 uno, 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 uno. Guarda, ginta. Zona marmata! Con redire! Scuente la zona! Un po' Un po' un l'amico vita la capsa. Ok, aperto! Un po' 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 guardiamo il primo salgo anch'io salgo a bordo raga pulizzo minaccia 2 minaccia 2 attacco a grappolo alleato in arrivo pulizzo zona marcata in movimento come sapiamo gente della mia destra nemici in zona ciò non viene tiro UAB alleato in zona sorvolo avviato si sono lì tra i bordo e i cazzo di post torre cascudo qui non c'è quella mia lunga nemici in zona non c'è non c'è non c'è non ancora ok penso io mi attaccano davanti raga questo è il gulag sopravvivi e tornerai in azione lo scontro sta iniziando provocare il nemico è un ottimo sistema per entrargli nella testa lo è anche un sasso ben piazzato lo scontro ha inizio sei il prossimo preparati vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco è ora spezzalo hai vinto beh non voglio tornare in prima linea ora ci metto qui tutto il punto tutto il punto gas in arrivo spostamento della zona oscura è una permonizione Sì, è vero. No. Lo intenta che si mette. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. arriva il gas serve a qualcuno la zona sicura è lontana sbrighiamoci guarda prendiamo il cammer da venite ho avvistato un veicolo c'è un venditore per fare scuola ho attivato un sistema trofi andiamo un certo punto non è riuscito a farlo non è riuscito a fare fuori nemico il volo contatto! fuori nemico il volo 6 6 7 8 6 9 10 11 12 Monti 14 15 Avanzate alla prossima area e mettete in sicurezza il perimetro. NEMICO! Andiamo! Il vestaglio ricercato è KO! Ottimo lavoro! Gas in arrivo! Zona sicura riposizionata! Non so il pieno di uscita. Ci ponte una persona ancora ragazzi, ci ponte una persona. Non avrei bisogno di piastro. Lo compriamo ragazzi. Contatto. Informazioni tattiche ottenute, ottimo lavoro. Mi sposto qui, ignorate quello è un venditore per fare scorsa. Ora ce la campriamo qua un po'. Prendo la casca e lui dirà. Non so... Un po' di soldi! UAPI NEMICO IN VOLO! Protezione o qualcuno sta qui? CONTATTO! Cessioni disponibili! Ho usato una cassa di piastre, la tiro sui piastre Noi ero, sono abili Pescecchini Terra 1 lì Andiamo! Pesaglio taglia in campo, abbattetelo Sto avanzando Mio Contatto! Sistema trofi in uso Zona marcata In movimento è che la taglia vuole andare allo shop vedo movimento gas in arrivo alla nuova zona scura dovete rifornirvi qui c'è un venditore il movimento annullare nulla ultima comunicazione avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo in discesa nell'area operativa non c'è solo una B quindi prendiamo un fantasma non c'è una monoccia ma io ragazzo l'UAP e poi c'è una cassa protezione guardiamo non c'è un luogo non c'è messenger non lasciate stare movimento nemici in zona la cassa ti serve alba perfetto siamo tutti nella zona sicura ho trovato una protezione munizione dove va via alleato in zona sorvolo avviato qui sotto raga sotto 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 controllo qui intorno mi hanno colpito avete fatto quelli sotto vedo movimento tempo del contratto scaduto abbiamo perso il versato gas in arrivo zona sicura riposizionata fermo l'emorragia rimangono 25 no grazie che non c'è qui è che non c'è qui ok ti penso io qualcuno c'ha delle piastre qualcuno ha delle piastre andiamo ho trovato una coranza annulla ultima comunicazione qui raga ho lanciato la cassa mi sparano addosso stringi non è grave scontato scontato arriva il gas diamo la scelta raga vieni rigo qui raga gente impatta abbiamo come l'ho detto mi sposto qui annulla ultima comunicazione facciamo carico vedo movimento guardate la collina qualcuno che guarda la collina sono là in movimento come l'ho detto ho chiederti guardato di precisione nemico giù guardato di movimento trova zona sicura individuata mi restano solo guardate non c'entro sopra la collina nemici in zona andiamo di qua vado di qua in movimento non c'è non c'è lontana sbrighiamoci li sposto qui il mio sinistra avanti comportamento di precisione alleato attenzione quattro bersagli sono ancora da fuori sono a terra sii bella 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 Ehi vanno, ehi vanno. Chega. Si sta perchè è vero come si è spadana e poi è vero come si è secca Ci fa il tonnerino e ci ho messo il caricatore a 50 Bella bella Raga ci vediamo alla prossima Ci vediamo alla prossima